Ciao a tutti, io sono Franz e oggi siamo tornati dopo una lunga assenza su Clash of Clans Ragazzi vi voglio far vedere una cosa Intanto vi faccio vedere il mio profilo Siamo tornati nei Connors, clan di origine In più ho finito il pack al 3 Il golem al 2 e lo sto già facendo al 3 Una volta finito non so se farò direttamente i domatori o ancora i golem, vedremo Comunque ragazzi oggi faremo un attacco speciale dedicato a una persona speciale Infatti sto usando solamente Valkyrie Perché questa persona è una donna Connors guerriera Quindi ragazzi quello che vi volevo far vedere è uno speciale perché Perché Pepsi ha superato le 10.000 donazioni Ragazzi rendetevi conto ha donato più di 10.000 unità Cioè adesso è già arrivata 11.000 Una cosa impressionante Cioè da far sospettare che Pepsi sia illuminata Comunque ragazzi Io partirei subito con questo attacco Faccio un attimo un saluto nel clan Vediamo se qualcuno capisce perché tanto che non registro Ok Andiamo subito alla ricerca di un attacco Ho preparato 28 Valkyrie più il mio 3 Nel castello Vediamo se troviamo qualcosa Speriamo Va bene ragazzi Visto che noi siamo anche in scalata Io partirei subito da questo Un bel terremoto qui Valkyrie Allora Due fulmini qua e due fulmini qua Per eliminare i mortai che ci Sicuramente ci farebbero secche Le nostre belle Valkyrie Sempre che Vadano di qua eh Ok Mettiamole tutte giù Forza Valkyrie Farmi la seconda stella Forse Questo c'ha il golem in difesa Non so quanto potrà durare quel golem Come come ve l'ho detto Con le Valkyrie Guardate quanto Quanto disastro fanno le Valkyrie C'è una cosa impressionante Peccato per Guardate Pensavo meglio eh Diciamo che ho sbagliato un po' Io l'attacco Infatti è morta anche la mia Regina Comunque ragazzi L'attacco non è andato benissimo Però intanto ci siamo portati via Sei trofei E il nostro bottino Vediamo chi c'è Bella Bella Youtube Bella Android Ciao Youtube Eccoli qua ragazzi Intanto stanno facendo la guerra i ragazzi Che saluto tutti quanti Io spero che comunque questo video speciale Vi sia piaciuto Vi ricordo se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Lasciate un bel like Dal vostro Franz Per adesso è tutto Bella Android Ciao Ciao